L'IPI è un po' in controtendenza rispetto alla situazione economica attuale. Ci spiega il segreto di questo successo? Beh, io direi che non ci sono segreti particolari. Noi abbiamo lavorato da sempre, da quando abbiamo rilevato questa azienda, con estrema determinazione. Una prova è questo stabilimento, che è sordo cinque anni fa, perché questo ci permetteva di produrre un quantitativo di materiale più idoneo alle nostre esigenze di mercato, con qualità più elevata e con tempi di realizzazione più rapida. E questo è stato, per esempio, un ottimo esempio. Ma un aspetto che credo ha caratterizzato la nostra attività è che quando è arrivata la crisi del 2008 e poi c'è stata quella del 2009, beh, sicuramente ci ha dato dei problemi, ci ha dato dei fastidi, ci ha messo in difficoltà, però abbiamo ritenuto che era il momento in cui dovevamo continuare a investire, a investire, a investire su due direzioni. Una, la ricerca e sviluppo. Due, l'attività commerciale sui mercati. E questo ci ha aiutato successivamente e si sta aiutando anche adesso, perché poi la crisi, noi pensavamo che era terminata, c'eravamo illusi, il 2010 sembrava andasse meglio, invece la vediamo c'è. Però, siccome noi non lavoriamo solamente in Italia, ma lavoriamo, esportiamo oltre l'80% del nostro materiale in 30 paesi del mondo, questo ci permette di mediare tra il paese che ha difficoltà, quello che si evolve con una velocità più alta e quindi riusciamo a mantenere i livelli, anzi, direi che a incrementarli. Noi abbiamo avuto una crescita di circa il 25% nel 2010 rispetto al 2009, di oltre il 20% nel 2011 rispetto al 2010 e quest'anno puntiamo su un altro 20-25%. Speriamo bene. Oggi l'azienda apre le porte alle istituzioni. Quanto è stato e quanto è importante il sostegno delle amministrazioni locali e non solo? Io devo dire che noi abbiamo avuto un notevole sostegno dall'amministrazione, qui di dove siamo, devo dire di Umbertide, stabilmente Umbertide è la verità, e quando noi abbiamo cercato di insediarci abbiamo trovato questo sito industriale, non era esattamente come serviva a noi, abbiamo fatto delle richieste, sono state esaudite, abbiamo avuto tutto il supporto necessario per far sì che si svolgesse tutto velocemente e ora siamo qui veramente contenti di esserci localizzati qui. Oggi abbiamo il piacere di estendere la partecipazione a questo incontro anche al sindaco di Perugia, perché riteniamo sia giusto che di allargare le nostre relazioni anche col sindaco di Perugia perché i nostri uffici amministrativi sono a Perugia e quindi è quello che sia utile farlo e riteniamo che anche con il sindaco di Perugia di poter avere lo stesso rapporto di collaborazione che abbiamo qui a Umbertide. Tanto a parte la collaborazione che è giusto che ci sia fra chi amministra e chi viene investito nel nostro territorio, è importante che si sviluppi anche in maniera sinergica soprattutto sul versante delle infrastrutture, credo che nei prossimi mesi inizieremo il completamento del raccordo ferroviario che potrà essere utile allo sviluppo futuro dell'azienda, ma al di là di questo io mi auguro anche che avendo la IP acquisito ulteriori territori ci possa essere un ulteriore ampliamento che garantisca maggior occupazione ma anche maggior sviluppo dell'azienda stessa. Innanzitutto voglio fare i complimenti alla proprietà, al management che sono riusciti a esportare nel mondo tecnologia all'avanguardia, un settore di mercato a livello internazionale seppur piccolo ma di alta qualità, qui si pensa, si progetta, si lavora e si esporta nel mondo, il 90% della produzione è appunto nel mondo, mi sembra che in una fase come questa aziende come la IP debbano essere sostenute, in questo caso come ha fatto il comune di Umbertini con l'area PIP e da noi nello stabilimento principale di Sanzisto, dove c'è anche la sede amministrativa, ha la stessa attenzione. Credo che dovremmo lavorare insieme per aumentare la fetta di mercato che in questo segmento può sicuramente crescere e fare in modo che un esempio come questo, cioè dove la qualità e l'azienda che è oggettivamente internazionale mantenga le proprie radici ben salde qui, mi sembra un buon esempio di impresa in un momento difficile. Qualità, tecnologia e innovazione sono, a mio avviso, gli strumenti per vincere anche in altri settori. È sorprendente come questa azienda abbia incrementato le proprie attività del 25%, è un'azienda figlia del nostro tempo in quanto lavora con i sistemi informatici, con internet, con i computer, attraverso questi arrivano le commesse dai vari mercati del mondo e quindi è un'azienda globalizzata. Per noi è un sistema, non è solo un'azienda perché ha tantissime collaborazioni, dall'università all'altro ha i sistemi di imprese che forniscono appunto parte della loro produzione e quindi sta aprendo la strada verso il futuro questo sistema di fare impresa. I mercati sono stati penetrati in tutti e quattro i continenti e appunto sono in crescita e questo è estremamente importante. È anche un elemento di fiducia in una crisi che non abbassa i livelli appunto di criticità alla quale nel 2012 ci vediamo ancora tutti impegnati a far fronte a questa crisi drammatica, globale, produttiva, economica che attraversa tutto. Però questa è la risposta, la risposta di un'azienda globale che si misura con tutti i mercati del mondo e che dell'innovazione tecnologica ne ha fatto la sua carta vincente e anche dell'organizzazione. E soprattutto colpisce che sono i giovani che lavorano in questa impresa e fanno ricerca, fanno innovazione e fanno produzione. Quindi è una grande speranza per l'Umbria, per l'economia della nostra regione.